Bene, parliamo di pubblicità e parliamo di pubblicità vera. Quando è che la pubblicità è vera? In teoria dovrebbe esserlo sempre, perché il buon risultato, soprattutto nel tempo, parlando di posizionamento della marca e quindi di costruzione di una credibilità che passi attraverso l'autenticità del marchio stesso, deve per forza avere dietro di sé una comunicazione costruita attraverso l'assunto del vero. Oggi è ancora più importante questo perché sappiamo che uno dei valori che sempre più spesso le aziende vogliono trasmettere sono i valori connessi all'etica e quindi al corretto comportamento dell'azienda nei confronti di ambiente, genere e attenzione all'inclusività. Tutto questo deve per forza di cose passare attraverso una comunicazione che sia vera. Raccontarla bene è il difficile della comunicazione e qui però veniamo chiamati noi pubblicitari. Siamo quelli che hanno le skill per poter costruire comunicazione vera, per poter raccontare e narrare la comunicazione vera nel modo più corretto possibile e soprattutto nel modo più efficace possibile perché la pubblicità, non dimentichiamolo, vende prodotti e rafforza la marca.